Sono in fermento anche gli istituti scolastici dell'Aronese per la ripresa dell'anno 2020-2021 dopo l'interruzione per l'emergenza sanitaria. Al liceo Enrico Fermi di via Montenero d'Arona c'è stato l'avvicendamento dei dirigenti. Il 31 agosto ha terminato l'incarico Marina Verzoletto e dal 1 settembre l'è subentrata Marta Bollini. L'anno scolastico si presenta con una novità, si articolerà con due sistemi. Le prime classi frequenteranno tutto il periodo, le classi dalla seconda alla quinta, si alterneranno una settimana in classe e una con didattica da casa. In questo modo non ci saranno mai presenti contemporaneamente i 1300 allievi dell'istituto. Al comprensivo Giovanni XXIII si riuniranno con la dirigente Gabriella Rec, il consiglio docente e il consiglio d'istituto per mettere a punto il regolarmento. All'istituto comprensivo del Vergante, che ha sede a Dinvorio ma comprende nove comuni, sono pronti. Anche qui però si attendono le ultime disposizioni ministeriali. 1600 sono gli allievi, uno dei più numerosi dell'intero Piemonte, suddivisi in una quindicina di plessi. All'istituto Marcelline di Arona, la responsabile e sua relisa a Torracco, ha trovato collaborazione nel reperire gli spazi per ospettare i 300 iscritti, tra nido, materna, primaria, secondaria e liceo. Per quanto riguarda i banchi, la maggior parte erano già singoli, prima dei nuovi dispositivi ministeriali. I rimanenti sono già stati acquistati. La direttrice di Anna De Micheli afferma «abbiamo effettuato la mappatura interna e quella legata alle disposizioni ministeriali. Siamo in grado di rispettare perfettamente il distanziamento tra gli alunni. Ci solleva il fatto che sarà sufficiente la certificazione della famiglia per quanto riguarda le condizioni di salute degli allievi e non dobbiamo ricorrere allo scanner per misurare la febbre». L'amministrazione comunale di Arona, invece, ha disposto un'ordinanza che obbliga l'uso delle mascherine all'esterno in prossimità dei plessi scolastici.